o o o o o attenzione che adesso sto fazendo da soli o 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 ooooooh ooooooh bravo e un' ultima cosa poi non distrutto più e mi serve proprio un claip solo uno esatto così Stiamo pronti? Grazie. 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 Grazie.